Verde, verde, speranza, speranza che sia stato soltanto un momento negativo e di ripartire. Vi invito a iscrivervi qui se lo avete ancora fatto, mi raccomando, numerosi, e a lasciare un like, sperando appunto che possa essere comunque una settimana quella che è iniziata ufficialmente oggi positiva, passando il turno col Salisburgo, sarebbe fondamentale dal punto di vista sportivo e anche economico, e quindi di ambizioni, di investimenti, eccetera, 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 e poi la gara con lo Spezia in casa da vincere per recuperare, accorciare, allungare, poi questo si vedrà. È giusto però analizzare le sconfitte bene, bene, vivisezionarle, cercare di trarre degli insegnamenti, delle lezioni, capire che cosa si è sbagliato. Ieri sinceramente secondo me abbiamo sbagliato tutto, tutto. Davvero salvo nulla e nessuno. C'è chi ha fatto molto peggio, certe cose brutte, in generale, non so voi ragazzi, voglio confrontarmi con voi amici e amiche, ho notato una squadra scarica, anche di gamba, ma laddove non è un problema di preparazione, perché tre giorni fa con la Dinamo abbiamo corso, ma, quattro giorni fa, ma un problema di testa. Ho visto una squadra scarica mentalmente, l'ho vista con il cefalogramma piatto, l'ho vista svogliata, l'ho vista spenta, già nell'atteggiamento subito di Leao, puoi sbagliare primo, sbagliare secondo, non ci sei molto con la testa. Ho visto un Teo Hernández clamorosamente in affanno, è stato uno dei primi ad arrendersi nel secondo tempo, a volte manco andava, si fermava, vagava un po' anche a destra. Ho visto, ecco, la fotografia del fatto che non c'eravamo con la testa. Quando segna Messias, rimane lì, esulta, ma io ho detto, caspita, ma tornate, prendete la palla, tornate indietro, lì deve uscire il sacro fuoco, quel gol deve essere la scossa, invece, dopo quel gol, ti rimporta a zero, pericoli creati, zero, significa che proprio, ieri, non avevi, non avevi nulla qua dentro, il cuore, il sentimento, la voglia, e questa è una cosa che mi preoccupa, è giusto essere onesti. Dopodiché, l'anno scorso, quando abbiamo perso delle partite, ci siamo detti, guardandosi negli occhi, male, 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 speriamo possa dar la sveglia. Ricordate, l'anno scorso abbiamo perso contro Fiorentina, e poi Sassuolo, oggi avevamo sei punti in più, però le prossime due le avevamo perse, quindi se noi si vince con Spezia e Cremonese, arriviamo a pareggiare il conto dello scorso anno, nel male di quest'anno, l'anno scorso, la gara con la Fiorentina persa, non ci dà la scossa, ce la dà quella dopo, la gara pareggiata col Torino, ci aveva dato la scossa, evidentemente, serve anche questo, sperando appunto, di non sbagliare con il Salisburgo, di portare a casa la qualificazione, di vincere poi con Spezia, con Cremonese, e con Fiorentina. Spezia e Cremonese, sono gare alla portata, e con la Fiorentina in casa, sicuramente bisogna vincere. La classifica ieri è cambiata, il Napoli a più 6, anche a livello psicologico, vedere una squadra a più 6, è una squadra che sta rollando tutti, sicuramente non aiuta, magari Mina è sceso in campo un po', con qual'idea, questi non sbagliano in colpa, hanno vinto tutte, o pensando alla gara di Champions League. Secondo me non può essere una scusante, il fatto che ci sia una gara fondamentale, tanti dicono la più importanza degli ultimi anni, tutto quello che volete, però con un bricio di attenzione in più, e una gara preparata meglio, si poteva fare i tre punti ieri, e qualificarci. Mercoledì, quando non servirà neanche un'impresa, che dice, vado sul campo del Liverpool, devo vincere con due gol di scarto, no, gara non facile, ma che basta non perdere. Detto questo, il problema di testa a me dà molto, molto, molto fastidio, perché una squadra non può avere la pancia piena dopo uno scudetto, dopo uno scudetto la squadra deve avere, deve avere ancora più voglia di difendere questa cosa qui, il tricolore è un successo, orgoglio, ma ha anche senso di responsabilità, nei confronti della maglia che indossi, della società, dei compagni, del tecnico, della tifoseria, che l'anno scorso ha trascinato la squadra, ha sempre risposto presente, e continua a rispondere presente, perché i tifosi vanno allo stadio, riempiono anche, con un Milan Spezza, tutto lo stadio, quella fame, quella voglia, quell'attaccamento alla vittoria, lo deve avere anche la squadra, il gruppo, tutti. Tonali, che è uno dei leader di questa squadra, in tempi non sospetti, e l'avevamo commentato in un video, ora recupero la data, così contestualizziamo anche meglio, era il 20-21 agosto, aveva detto una cosa, io credo che non ci sentiamo diversi, rispetto allo scorso anno, ma dobbiamo capire che questo è un altro campionato, dobbiamo lasciare quanto di bello fatto, mettere un punto, e ripartire. Tutti noi abbiamo voluto rientrare prima, per sentire odore di calcio, è bello rientrare dopo una vittoria di campionato, ma ora è un momento difficile fuori dal campo, così l'aveva definito Tonali, bisogna essere bravi fuori dal campo, e lasciare tutto da parte, guardare solo noi e la squadra. L'abbiamo visto contro Udinese, che siamo andati subito sotto, perché non c'era la concentrazione, abbiamo vinto, siamo stati bravi, ma ora bisogna ripartire, fare il meglio possibile. Ecco, ripeto, era agosto, il 21 agosto, sono passati due mesi abbondanti, e mi sembra che il problema di testa sia rimasto. C'è un dato che secondo me rappresenta molto bene il problema di testa, e questo, ripeto, vuole essere un video in cui non si distrugge, ma si costruisce, in cui si analizzano i problemi, e non si nasconde tutto sotto al tappeto. Il Milan, rispetto alle prime otto in classifica, che sono Napoli, Atalanta, Milan a punto, Lazio, Inter, Roma, Juve, Udinese, ha la seconda peggior difesa. Questo è un dato decisamente negativo, che non va bene, perché parliamo di una squadra che nelle ultime undici della scorsa stagione, lo ripetirò, all'infinito aveva sigillato la porta con al pena due reti subite. Il Milan, dopo dodici turni, ne ha già subiti tredici, più di uno a partita. L'Atalanta appena otto, il Napoli nove, la Lazio otto, l'Inter ha fatto peggio diciassette, la Roma dieci, la Juventus appena sette, l'Atalanta è stata Juve comunque la miglior difesa a sette, l'Udinese dodici, quindi soltanto l'Inter ha fatto peggio di noi rispetto alle prime otto in classifica. Non va bene. Quando tu sbagli e prendi troppi gol, sistemazione, come ti metti in campo, ma atteggiamento testa, anche perché, se riavvolgiamo la pellicola e ci rivediamo il film di queste dodici partite, la maggior parte, la stragrande maggioranza dei gol subiti, sono stati subiti a difesa schierata. Non è possibile che noi si subisce sempre gol da calci piazzati, da palle inattive, colpi di testa, con situazioni facilmente leggibili come quella di ieri, di fatto. Se vogliamo anche il secondo gol, lancio lungo, eravamo lì, ci fatti sorprendere, anche colpa di Altarosano, nei gol subiti c'è anche evidentemente il fatto che non ci sia primo portiere, ma secondo, ma subivamo troppi gol anche con Mignan. E quindi si possono perdere le partite non con quell'atteggiamento, si possono subire gol non con questa serie di disattenzioni. Perché poi è una questione anche spesso di un centimetro, di un briciolo di più di cattiveria. Lo scorso anno le palle mezze e mezze erano tutte nostre. Io sono andato a vedermi a San Siro la gara con l'Atalanta, fantastica, e ogni palla era nostra. Perché avevamo più voglia, più cattiveria, più fame rispetto all'Atalanta. E così nelle precedenti partite. Quest'anno non è così. Poi ci siamo presi anche noi partite all'ultimissimo con il cuore, con la voglia, però in tante altre partite nonostante siamo stati superiori abbiamo anche subito un po' troppo col Verona nel primo tempo. spesso non abbiamo chiuso le partite quando potevamo. E ragazzi, questo è il vero problema secondo me. Poi parleremo anche del mercato, delle scelte di Pioli che non lancia alcuni giocatori, eccetera, eccetera. Ma c'è un allarme rosso che non può essere ignorato perché l'ha lanciato un giocatore, un leader del Milan, due mesi fa. Due mesi dopo quel problema secondo me è evidenziato, non è cancellato. Quindi lavoriamo su questo aspetto e bisogna avere tutti più fame. Ripeto, chi va allo stadio la fame ce l'ha. Noto anche qui su Milanello che rispetto allo scorso anno ci sono tanti un po' con la pancia piena, una percentuale rispetto comunque ai tantissimi iscritti. Io dico che un tifoso non può avere mai la pancia piena, un giocatore non può avere mai la pancia piena, a meno che ha 40 anni, eccetera, eccetera. Li posso anche capire, può essere quasi fisiologico. Non è il caso dei giocatori del Milan che sono giovani e non si devono accontentare di uno scudetto che altrimenti rischia di diventare un episodio. Invece bisogna aprire un ciclo e bisogna continuare a dare il massimo. Questo è, secondo me, il vero problema oggi del Milan. Poi si può dire manca che si, manca quello o quell'altro, va bene, ma l'atteggiamento, la fame e la voglia non possono mai mancare. E se ci pensiamo, troppi errori di deconcentrazione su tanti giocatori. Tanti giocatori. Troppi. Le ha o ieri. Tomori ne ha fatte tante. Penso poi alla gara di Teo di ieri non sul pezzo. Penso a giocatori che stanno facendo fatica a decatelare un caso a parte. Lo stesso Messias che mi sembra non abbia quella incisività rispetto allo scorso anno. Insomma, in generale serve più cattiveria, più fame, più voglia di arrivare. E spero tanto che questa sconfitta la ricorderemo come uno snodo cruciale. Non in negativo perché ha segnato la classifica, ma speriamo in positivo perché ha svegliato questi ragazzi. Ditemi che cosa ne pensate ragazzi. Commentate numerosi qui sotto, iscrivetevi qui se non l'avete ancora fatto, lasciate un like sperando mercoledì sera di avere questo sorriso qui. Un abbraccio. Dai. Ciao.